Buonasera cari frate e sorelle, eccoci di nuovo ad un altro appuntamento con la Madonna, un pensiero a lei, sempre dalla mia casa, sono andato due giorni a casa e quindi da qui mi metto in diretta con voi e con il vostro cuore e con il cuore della Madonna Oggi vi voglio proporre un canto che poi andrete ad ascoltare, si intitola La voce di Maria perché le parole mi hanno sempre commosso, oltre al canto che è bellissimo e quindi poi vi invito ad ascoltare La voce di Maria dentro l'anima mia, come balsamo scende sulle ferite e se le porta via La voce di Maria, dolce melodia che ti porta sempre nel cuore di Gesù Le mani di Maria, sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per l'anima mia La voce di Maria, la voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ti fa cantare Sei la mamma mia Ecco questo è un canto che veramente mi tocca il cuore e l'anima Pensare alla voce di Maria, al suo sorriso e alle sue mani sulla nostra vita Veramente che santa benedizione Ecco allora ascoltiamo in questo tempo di maggio la voce di questa mamma che ci invita a seguire Gesù La voce di questa mamma che diventa una dolce melodia che ci porta sempre più vicino a Gesù Non lasciamoci prendere dalle voci del mondo Ma ascoltiamo la voce della nostra mamma Ecco questo è il pensiero di oggi Pace e gioia Pace e gioia Pace e gioia Pace e gioia Pace e gioia